Non si vive un'altra volta, e ogni giorno che passa è una notte di meno. Ciò il diavolo in corpo, ti ammazzo, ti ammazzo, ti ammazzo. No, dentro di noi abbiamo tutti, sia il bene che il male. Per far prevalere il bene dobbiamo coltivare i valori. Per coltivare i valori dobbiamo sentirci dentro, ma tanti di noi dentro non sentono più niente. E allora io vi chiedo, sia che voi siate credenti o non credenti, di seguire i dieci comandamenti. E tutti vi sentirete più leggeri. Alla gamba!